Meno di 24 ore all'inizio della stagione 2012-2013 del campionato di Serie D Girona F. Ad Isernia è tutto pronto in vista del match di domani tra i padroni di casa e gli ospiti della Vis Pesaro. C'è grande attesa all'ancellotta da parte dei tifosi e di certo si respira aria d'ottimismo in Casa Pentra. Il presidente Gianni Monfreda non sta più nella pelle aspettando l'inizio dei giochi, così come mister Farina che freme in attesa del primo fischio delle ore 15 di domani. Dopo l'ultima vittoria di domenica scorsa targata Coppa Italia contro Real Hylia, tutto sembra promettere bene e dare la giusta carica positiva ai Bianco Celesti. I protagonisti che con ogni probabilità vedremo scendere domani in campo saranno gli stessi dello scorso fortunato match, ossia da Rienzo Ricci, Lunardo, Velardi, Varchetta, Ruggeri, Barbella, Galupi, Artiaco, Panico e Palumbo. Si tratta sempre di previsioni azzardate e probabili, ma non certe, dato che proprio in queste ore mister Farina sta ultimando la rifinitura della Rosa Pentra. Tra l'altro torna disponibile il portiere Buc. News in casa Bianco Celeste ha da poco firmato il difensore classe 94 Fabio Russo, ex Campobasso 19-19. Lo slogan esernino resta lo stesso, ossia fare bene divertendosi. Ci si aspetta il tutto esaurito tra gli spalti del lancio e lotta, a sostegno della squadra Pentra che domani più che mai avrà bisogno dell'incoraggiamento dei tifosi per poter affrontare con serenità la nuova stagione calcistica. Non resta che dare l'imbocca al lupo ai ragazzi bianco celesti a tutto il team Pentro, augurando loro un positivo campionato senz'altro ricco di soddisfazioni. A dirigere l'incontro eserni a Bispesaro sarà il signor Aristide Capraro di Cassino.